Da un po' di tempo a Paganico non si parlava più di subsidenza alle buche che si aprono nel terreno a causa dell'abbassamento della falda acquifera. Adesso però il fenomeno sembra di nuovo in ripresa. Le segnalazioni negli ultimi mesi si sono moltiplicate, ci spiega Liano Picchi che da anni si interessa di questo problema. Si tratta di avvallamenti o buche di diametro piccolo ma profonde anche un metro e più. A volte non sono facilmente visibili e per segnalarle i residenti usano bastoni o pezzi di legno o se no le coprono con delle pietre. Si può provare a riempirle ma sembra non serva molto come ci spiega questo residente che ha provato a tappare una buca formata in giardino quest'estate ma che si sta riformando. Era molto grande, era stato un metro di diametro come minimo. E quindi voi l'avete riempita quest'estate? L'abbiamo riempita sì. E questa è una cosa grave, bisogna risolvere questo problema perché poi ci sono anche in altri punti del terreno, anche là giù in fondo dove ci fa l'orto di Figliolo, la ritappate e le buche però vengono fuori. In realtà, dice Picchi, il fenomeno delle buche a Paganico non si è mai fermato ma adesso è probabile che si siano verificate delle condizioni particolari. Dopo quest'estate siccitosa e dopo probabilmente altre cartiere che hanno aperto, prelieri maggiori, dopo le ultime piogge, qui sta precipitando centinaia di buche che si stanno aprendo. Ora, siccome qui appena l'8% è coperto dalle case, per un discorso probabilistico ancora non è avvenuto, ma è evidente che in questa rouletta russa prima o poi... Ma si tratta sempre dello stesso fenomeno emerso anni fa? Sì, chi la chiama creparciamento, chi la chiama subsidenza, eccesso di prelievi rispetto alla capacità naturale di rimungimento della falda e quindi prelevando più di quanto si ricarica, crolla. Qui c'erano risorgive che venivano fuori, oggi ci sono voragini che si aprono. Il Comitato Ambientale chiede che le autorità tornino ad interessarsi del fenomeno. Anni fa qualche iniziativa venne presa ma poi non si è saputo più nulla. Del Ghingaro aveva addirittura fatto una commissione per la subsidenza ma non ne abbiamo più saputo niente, se esiste sempre, se si è sciolta, se hanno trattato delle conclusioni.